Ed eccoci tornati in onda, è il momento del nostro scaffale. Eh no, prima c'è la castroneria, guarda, è arrivato il momento tanto atteso. Ma io dico, ma mi posso sempre far prendere per i fondelli così tutte le settimane? Guarda, fai veloce per favore, dai, perché ti giuro che non rispondo di me. Castroneria in tema, castroneria infuocata, che ancora in clima di campagna elettorale, e vabbè, ha tutta l'aria di essere la solita provocazione. Una parte politica ormai, diciamoci la verità, alla frutta. Chissà perché credo di sapere chi ne è il protagonista, ovvero il nostro Bacchetto Giovanardi. Eh, eh, di la verità, è lui, è lui, è lui. Il nostro fantastico sottosegretario alla famiglia ha detto non escludo affatto che nell'improbabilissima eventualità che diventasse sindaco dei magistris favorirà, nell'ordine, femminili, gay, trans, attraverso registri che ne legittimano le unioni. Eh, che dramma, eh. Che scandalo. E discriminerà, sul piano dei servizi sociali, le famiglie con figli. Ma che tragedia sarebbe, Giovanardi. Una catastro. Ma poi come si fa con un po' obiettivo sessuale come in me discriminata? Nat, dovremo litigare sugli alloggi popolari. Ci prenderemo a capelli, sì, per l'accesso dei nostri figli all'asilo nido. Certo, come no, come no, sì. Come se non bastasse, Giovanardi ha anche aggiunto che chi sostiene Pisapia in realtà mette in pericolo i propri figli, perché le politiche di Pisapia sono a favore della liberalizzazione di cannabis e marijuana e quindi potrebbero portare i giovani nel tunnel della droga. Ma, dico, ma nel tunnel della stupidaggine? Eh, appunto. Che lui è proprio dentro, a differenza di come cantava un pezzo. Sono fuori dal tunnel, eh, eh. Lui ci ha finito da un pezzo, direi. Lui ci ha finito da un pezzo. Ma in quello della stupidaggine. Cioè, Giovanardi, ma non ci preoccupiamo, eh? Ma poi possiamo dire una cosa al collega Klaus Davi che praticamente... Che è Santa Klaus. Diciamoci la verità, lavora anche un po' troppo, insomma, è uno stacanovista di questo tipo di interviste, ecco. Non ha niente di meglio da fare che invitare Giovanardi al suo programma ogni tre per due, voglio dire. È vero, è vero. Vogliamo ancora speculare sul povero bacchettone Giovanardi, cioè lasciamolo in pace. Basta! Lasciamolo fare il sottosegretario perché ormai non ha più tempo, se no, di occuparsi delle famiglie dello sessuale, ecco. Sì, in effetti mi sento un po' orfana del mio sottosegretario. È vero, è vero. Chi ci pensa a te, se no, Eleonora? È vero, ultimamente infatti hai preso un po' troppo piccolo, capito? Esatto. E io non mi sento più sostenuta. Hai visto, hai visto. E poi vorrei rivolgermi direttamente a Klaus. Caro Klaus. Carissimo. Perché continui a invitare Giovanardi nel tuo programma? Non ci fai mica una bella figura. Invita pure qualcun altro, se no sembra siate d'accordo, non lo so, che uno approfitta dell'altro per ottenere visibilità, insomma. Appunto, a parte il fatto, inviti noi, che magari potremmo anche essere più d'aiuto rispetto al nostro pacchetto Giovanardi. È un valore aggiunto, sì. Ecco, che ormai, insomma, dice sempre, sono le cose. Non è proprio neanche più molto interessante. Diciamolo appunto che se non fosse per Giovanardi, Klaus condicio non esisterebbe nemmeno. Non lo vedrebbe nessuno. Non lo vedrebbe nessuno. Esatto. Ma soprattutto, ma che ne sarebbe di Giovanardi se non esistessero gay, lesbiche e trans? Questa è la domanda delle domande. Questa è la domanda. Su che cosa costruirebbe la sua visibilità il nostro sottosegretario? Va a finire che ci deve pure ringraziare. Sì, appunto. Oh, vabbè, dai, ora basta, però per favore, possiamo passare al nostro scaffale, così almeno passo il mio microfono alla nostra Lalla? Eccomi qua, pensavate di esservi liberati di me, ed invece sono di nuovo qui a consigliarvi ancora un bel libro da leggere, logicamente sul tema di stasera. Proprio l'omicidio di un femminiello napoletano è il motore che fa partire l'indagine giornalistico-poliziesca narrata da Vittorio Morelli nel testo 25-60-80, un romanzo del 2009 pubblicato dalle edizioni Giovane Holden. Attraverso il protagonista, Gennaro Esposito, cronista di Nera e, come ci suggerisce il titolo, vittima di una vera e propria ossessione per i numeri del lotto, scopriamo una Napoli bella e dannata, sommersa dai rifiuti e insanguinata dalla guerra di Camorra. Una spy story tra travestiti, cronaca nera e lotto che incuriosisce e ci porta nel mondo dei femminieli di oggi, che devono vedersela con la massiccia presenza dei viados brasiliani che hanno occupato la città costringendoli a vivere, almeno quella parte che si prostituisce per strada, in uno stato permanente di indeterminatezza. Un romanzo che ci porta dritti al cuore di una città splendida, che non ha conosciuto né ghetto né inquisizione, luogo ideale per la convivenza tra popoli etereogenei e culture diverse, che, vale la pena ricordarlo, a partire dall'Ottocento è stata per anni capitale dell'omosessualità europea. E noi ringraziamo Lalla, ma restiamo in tema con la puntata, perché anche la Rory ci consiglia un film per approfondire la questione dei femminieli e si tratta di Cerasella, documentario del 2007 di Massimo Andrei. Le femminelle non vanno con le femminelle, invece i gay vanno con i gay, basta intendere già questa differenza per intuire il senso antropologico di Cerasella, ovvero estinzione della femminella. Un videodocumento la cui ricerca non indugia né sulla valenza sociologica dell'argomento né su quella spietata della cronaca, ma risale il tema addirittura dal 1500, prima volta che una femminella viene nominata in uno studio. Cerasella è il nome di un femminiello, che non è un travestito, è altra cosa dal transessuale e dal gay occidentale, ma è vissuto ben integrato nella realtà dei quartieri popolari di Napoli fino agli anni Ottanta, fino a quando la metropolitanizzazione della società napoletana non ha cominciato a polverizzare la realtà della vita dei quartieri e le femminiele hanno smarrito l'habitat nel quale erano perfettamente integrate, quasi estinguendosi, forse perché è cresciuto il riconoscimento sociale del gay, talvolta ricco, affermato e potente. Che fa l'architetto, il designer, l'avvocato, mentre la femminella al massimo lavorava a Moodygolf, tirava di tombola e faceva la spesa per le famiglie del rione. Secondo gli autori del film, oggi la comunità è stata sostituita da un insieme di individui che risentono di una solitudine sconcertante. Non c'è stata un'evoluzione della femminella, ma anzi c'è stata un'estinzione di quel genere di individuo, genere che però ha attirato la curiosità di molti, anche quella di un fotografo napoletano, Salvatore Esposito, che ha realizzato la mostra Trasmutazioni, 31 scatti ritraenti, il bariegato e singolare mondo dei femminielli, ritratti nella quotidianità dei loro vicoli, al fine di rendere chiaro come in un tale contesto sia preferibile esternare più che nascondere la diversità. E adesso vi suggeriamo qualche appuntamento. Per chi non se ne fosse accorto è già iniziata la stagione dei Gay Pride. Infatti si sono già svolte le parate Rainbow a Palermo e Torino, ma l'evento più importante di quest'anno è sicuramente l'Euro Pride, che si terrà a Roma sabato 11 giugno. L'Euro Pride non è soltanto una manifestazione. Roma si tingerà dei colori dell'arcobaleno dall'1 al 12 giugno, con tantissime iniziative, alcune delle quali ci sono già state segnalate. Ad esempio l'angolo queer, con gender erotica, contaminazioni di arte queer, ideato dalle Ice Wild Drag. Avrà luogo il 4, 5 e 7 giugno, con mostre, performance, workshop e spettacoli. Oppure il quarto forum internazionale dei business leader GLBT, organizzato da EGMA, l'associazione europea dei manager gay e lesbiche, e che si terrà giovedì 9 e venerdì 10 presso l'hotel Raddison. Non ci sembra affatto superfluo ricordare a tutti gay e non quanto sia importante partecipare al Pride, non solo come momento di festa, ma soprattutto come manifestazione politica per rivendicare diritti essenziali. Pertanto ci sono tantissimi pullman che partono da tutta Italia per raggiungere Roma, e anche qui in zona ci si sta mobilitando. Infatti le associazioni Chimera Arcobalena e Movimento Pansessuale stanno organizzando un pullman che a costi ridottissimi partirà da Siena, passerà per Arezzo e raggiungerà l'Euro Pride. Per dare la vostra adesione o chiedere maggiori informazioni scrivete a archigay.arezzo.gmail.com oppure a movimentopansessuale.gmail.com Per stasera abbiamo finito, come avrete capito lo scaffale per tutto il mese sarà in gran parte dedicato all'informazione sui Pride. Voi contattateci per qualsiasi segnalazione al 366 2809050 oppure a redazione.oltreedifferenze.gmail.com Ma ricordate anche la nostra pagina Facebook e blogoltreedifferenze.splinder.com E allora noi vi auguriamo una buona serata per chi adesso andrà a divertirsi e anche una buona notte per chi invece sceglierà magari di andare a letto perché domattina magari è da svegliarsi. Noi vi aspettiamo venerdì prossimo sempre sulle frequenze di Antenna Radio S o in diretta online dal sito www.antennaradios.it per andare sempre Oltre le differenze Oltre le differenze Alla radio si parla di omosessualità e dintorni Una finestra sul mondo arcobaleno Ah però! Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 su Antenna Radio S Oltre le differenze Alla radio si parla di omosessualità e dintorni